Mamma! 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 Stai calma! Guarda papà! Niente libertà, nessuna speranza. Se fossimo in grado di convincerle a tradire i padri che le torturano e i mariti che le picchiano, le donne d'Indrangheta possono essere il cavallo di Troia che nessuno si aspetta. L'hanno fatta sparire. E può succedere anche a te. Fai la brava mucchiere, Giuseppe. La brava mamma. Angela, c'è mia figlia qua! Angela! Ma se vuoi essere libera c'è un prezzo da pagare. Giuseppe, sei pronta a testimoniare? Stasera siamo cazzo a festeggiare, no? Mamma! La famiglia! Tu non appartiene a nessuno, se non a te stessa. E alle oltre! Fermo! Aations! A Grazie a tutti.